Non è mio compito convincere Meloni. Abbiamo già una maggioranza con PPE, socialdemocratici e liberali e altri piccoli gruppi. La mia sensazione è che sia già sufficiente. La piattaforma politica che finora ha sostenuto il Presidente in Parlamento ha nuovamente la maggioranza. Credo che sarà possibile trovare una soluzione rapidamente. In Parlamento non deve esserci alcun sostegno per il Presidente della Commissione che si basi su partiti di destra e popolisti di destra. È stata una buona riunione. Penso che stiamo andando nella direzione giusta. Ma in questo momento non c'è accordo. I partiti politici stanno giocando un ruolo ed è questo naturale. D'altronde non era l'obiettivo di questa cena decidere. Lo si dovrà fare la prossima settimana. Io credo che non si possano chiudere le porte ai conservatori perché una realtà così variegata come il Parlamento europeo non può chiudersi in una maggioranza a tre. La situazione è fluida. Abbiamo un ruolo importante da svolgere perché credo che l'Italia aspetti una vicepresidenza e un portafoglio non di secondo livello. Buongiorno, buongiorno cari telespettatori. Allora, mettiamola così, si complica l'intesa sui vertici della nuova Unione Europea. Avete sentito le dichiarazioni dei protagonisti nella copertina di Camilla Moreno. Insomma, quello che abbiamo capito è che ci sarebbe un'intesa di massima tra i popolari, che sono i vincitori di queste elezioni europee, i socialisti e i liberali, che contemplerebbe quattro nomi. Intanto la riconferma di Ursula von der Leyen a capo della Commissione europea. Roberta Mezzola guiderebbe ancora l'Europarlamento. Poi c'è in corsa il socialista portoghese Costa, che potrebbe guidare il Consiglio europeo, insomma il consesso degli stati dell'Unione Europea e si fa il nome come alto rappresentante per la politica estera, insomma come ministro degli esteri dell'Europa, si fa il nome della liberale Estonecaia Callas. Che cosa succede? Succede che, secondo anche una ricostruzione oggi dettagliata del Corriere della Sera, Giorgia Meloni si sarebbe sentita molto irritata e si sarebbe sentita isolata da questo accordo precostituito che poi approderà la prossima settimana al Consiglio europeo. Questo perché? Perché avete sentito che cosa sostengono sia il premier polacco Tusk che il cancelliere tedesco Scholz. Insomma possiamo fare a meno di Giorgia Meloni, delle destre dei conservatori, ma soprattutto Giorgia Meloni dice qui parliamo di nomi, ma non si è fatta un'analisi approfondita di quello che è successo alle elezioni europee. Non è di secondo peso il fatto che adesso, il 30 giugno, si vota in Francia e come sapete alla vittoria finale è accreditata fortemente Marine Le Pen e questo potrebbe cambiare, insomma in qualche modo sconvolgere il quadro di queste intese, di queste alleanze. Vedremo. Oggi è una giornata molto densa anche dal punto di vista delle riforme. In Senato nel pomeriggio dovrebbe dal Senato arrivare il via libera in prima lettura alla riforma del premierato dopo le polemiche, le risse, gli scontri delle ultime settimane. E così come alla Camera continuerà la discussione sull'autonomia differenziata. E le opposizioni, ad eccezione di Azione Italia Viva, nel pomeriggio scendono in piazza a Roma per l'unità nazionale e contro queste due riforme, premierato e autonomia differenziata. Insomma c'è già molto di cui parlare e di cui confrontarci con i nostri ospiti. Allora do il bentornato Giulia Merlo del Quotidiano Domani. Ciao Giulia. Buongiorno. Saluto Sandro Iacometti di Libero. Ciao, buongiorno. Con noi in studio c'è il senatore Andrea Giorgis del Partito Democratico. Buongiorno. Buongiorno e bentornato. Saluto il senatore Adriano Paroli di Forza Italia. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, più tardi ci occuperemo anche di un altro tema che sta molto a cuore a moltissimi italiani che è il salva casa, il decreto fortemente voluto, come sapete, da Matteo Salvini. Ne parleremo per cercare di capire come stanno le cose visto che è molto atteso da molti italiani. Allora, Sandro, insomma, Giorgia Meloni, secondo molte ricostruzioni, è rientrata di gran fretta poi ieri facendo le ore piccole a Bruxelles. A Roma è molto scontenta, insomma, dalla tavola che si è trovata apparecchiata. Vogliamo metterla così? Sì, è una tavola a cui pretendono di dare le carte gli sconfitti alle elezioni europee che non si rassegnano all'idea del risultato delle urne, quindi non riconoscono quello che è stato, diciamo, un'indicazione molto chiara che è arrivata dagli elettori, soprattutto, diciamo, i componenti soci di maggioranza, che sono la Francia e la Germania, che hanno ricevuto una sonora sconfitta. Entrambi, Scholz lo ricordiamo, adesso il suo partito è sceso in terza posizione in Germania, superato dall'estrema destra e dai conservatori della CDU. Macron è stato doppiato da Marine Le Pen, quindi, diciamo, loro hanno una situazione interna molto complicata. Vogliono fare in fretta, vogliono... A me sembra, sinceramente, adesso, un grande inciucio europeo, cioè nel senso che è una alleanza che credo non scontenti solo la Meloni, ma scontenti tutto un elettorato europeo che ha dato un'indicazione in maniera completamente opposta. È furioso Orban, il premier ungherese. Sì, ma adesso, al di là di Orban, io ritengo che se, diciamo, i socialisti popolari e liberali si ostineranno ad andare in questa direzione non faranno altro che alimentare ulteriori consensi proprio nelle componenti, diciamo, elettorali e politiche che loro adesso stanno cercando di mettere in disparte, di imbavagliare. E la vedo anche bruttina. È una scelta mia, però la vedo molto difficile anche dal punto di vista europeo perché poi con questa maggioranza bisognerà comunque governare. Se non riescono a trovare, intanto dovranno avere una garanzia di un pacchetto di voti aggiuntivo rispetto ai tre maggiorenti, insomma, non ai liberali. E quindi là bisognerà vedere in che direzione vanno. Spero non gli venga in testa di imbarcare i verdi perché sarebbe ancora peggio rispetto a questo scenario, però senza i verdi effettivamente il rischio dei franchi tiratori c'è e quindi ci sarebbe il rischio di un caos in Europa con la von der Leyen candidata che non riceverebbe il consenso della maggioranza. Adesso qua stiamo ragionando sul fatto che la Meloni, il governo italiano, è l'unico stabile che ha ricevuto la conferma da parte dei direttori. Ma qui c'è un problema di governance europea. Ci sono delle sfide incredibili che devono essere affrontate e fare un governo tecnico, cioè tra virgolette, ho la sensazione, cioè mi ricorda molto i governi che ci sono stati in Italia dal 2011 fino al 2022 sostanzialmente, fatti in Parlamento. Guardo te, vado da Giulia Merlo, perché poi però i numeri, sì, con quell'accorgimento che facevi riferimento, attenzione ai franchi tiratori, però i numeri ancora popolari, socialisti e liberalisti ce li hanno sulla carta. Peraltro c'è un'altra questione, lo chiedo a Giulia Merlo, perché Giorgia Meloni deve capire se appunto, ammesso che si possa, far parte in qualche modo di questa maggioranza, ma questo le creerebbe poi tutta un'altra serie di problemi o restare in disparte ed essere diciamo meno rilevante, mettiamola così, per quanto riguarda questa nuova legislatura europea che si sta aprendo. Sì, diciamo che secondo me è sbagliato leggere gli scenari europei con gli occhiali della politica italiana in cui noi abbiamo fatto una campagna elettorale, in Italia si è fatto una campagna elettorale per le europee peculiare rispetto a quella negli altri paesi, qui appunto avevamo le due leader dei due blocchi centrosinistra e centrodestra candidate che non sarebbero andati in Europa e Giorgia Meloni ha impostato queste elezioni come un referendum su di sé che è stato formalmente vinto. Ecco, però questa impostazione mentale non si può portare in Europa in maniera speculare perché Giorgia Meloni e il partito di Giorgia Meloni più che lei stessa direttamente fanno parte del partito dei conservatori europei che non era nella passata maggioranza, che non è strettamente necessario a livello di numeri per comporre la nuova maggioranza in Parlamento. Ursula von der Leyen ha fatto una divisione di massima che è quella di dire dentro i conservatori possiamo cercare una sponda negli europeisti tra virgolette lasciando fuori gli anti-europeisti alla Orban per semplificare per chi ci ascolta. Che non è nei conservatori. Che non è nei conservatori. Che credo l'abbia chiesto ma insomma ma non credo che lo faranno infatti difficilmente però ecco il piano delle destre europee è un piano molto frastagliato e Giorgia Meloni ha una sfida davanti che è quella di dire esplicitamente anche al suo stesso elettorato e ai suoi stessi sostenitori noi siamo un partito di destra ma europeista. Se ci fosse questa ammissione forse ci sarebbero le condizioni per e Giorgia Meloni ha una grande sponda in Antonio Tajani dentro ai popolari europei che abbiamo sentito in qualche modo esatto è il pressing sui popolari esatto però ecco è una scelta che Giorgia Meloni deve fare ed è una scelta potenzialmente non pagante per come lei stessa ha impostato le elezioni in Italia eh allora sentiamo facciamo così andiamo in pubblicità e poi sentiamo se i nostri due ospiti i nostri due esponenti sia di maggioranza che di opposizione insomma è una bella partita anche questa Europa sono i due alleati in Europa sono i due alleati in Europa sono i due alleati in Europa e sono invece ai ferri cortissimi in Italia mettiamola così questa è un po' la curiosità a tra poco allora riparto dal senatore Paroli che peraltro è anche vice capogruppo al senato di Forza Italia senatore insomma Giorgia Meloni deve riflettere profondamente in maniera molto attenta alle prossime mosse perché non appoggiare eventualmente il bis di Ursula von der Leyen potrebbe voler dire per l'Italia insomma non avere o non ottenere quel commissario di peso di cui si sta parlando da diversi giorni o no? sì ma non solo non credo che ci sia solo il problema di un commissario di peso ma nei prossimi cinque anni un equilibrio europeo che è evidente che sarebbe importante avere sia la Meloni come fratelli d'Italia e quindi conservatori sia la Meloni come premier italiano siamo alle battute iniziali diceva bene chi mi precedeva che alla fine rispetto alle situazioni gli equilibri a cui siamo abituati in Italia l'Europa è un'altra cosa si è partiti adesso c'è una maggioranza uscente che è evidentemente non abbandonabile di per sé visto che quello che si cercava di costruire cioè una maggioranza fatta da popolari liberali che conservatori non ha i numeri ma al di là del fatto che questa maggioranza avesse o meno i numeri è evidente che l'Europa oggi si trova con scogli importanti da aggirare e da affrontare la partita economica è ancora totalmente aperta il PNRR è in funzione ma gli effetti del PNRR si vedranno sì ma non per chissà quanti anni adesso il patto di stabilità il nuovo patto di stabilità farà fare i conti con con problemi economici di investimenti da parte di tutti i governi di tutti i paesi e non dimentichiamoci che abbiamo ancora una guerra in casa che non solo non è finita ma che è ancora un grossissimo punto di domanda ecco su questi temi è evidente che l'Europa dovrebbe marciare il più compatta possibile quindi questo vale per tutti i capi di Stato quindi per tutti i rappresentanti dei loro paesi e io mi sento di dire per tutti i partiti è evidente ripeto poi la trattativa insomma sapete bene anche voi non è solo sul posto del vicepresidente della commissione la presidente della commissione o poco altro ci sono tantissime caselle e su questo mettere insieme tutti i governi nazionali e gli appetiti mettiamoli così di tutti i partiti non sarà semplice si è partiti quindi sappiamo bene che le dichiarazioni vanno anche in direzioni di aprire trattative e avere comunque la possibilità di avere delle carte da giocare io credo che alla fine se non tutti i conservatori la presidente Meloni appoggerà Ursula von der Leyen se sarà lei la candidata come tutto fa pensare che sarà questo per per questione di di politica nazionale e internazionale come dicevate bene il presidente Tajani è impegnatissimo a fare in modo non solo che il capo del governo italiano e quindi la Meloni i fratelli d'Italia e o anche tutti i conservatori possano entrare in questa maggioranza o appoggiarla dall'esterno come è già avvenuto in altre edizioni ma che ci sia una sintonia su quello che ci sarà da fare nei prossimi anni che ci sia una sintonia da parte di più forze politiche e da parte di più diciamo governi allora possibile sappiamo che serve il 65% degli abitanti rappresentati dai governi per indicare il presidente della commissione e questo è chiaramente una maggioranza qualificata e importante allo stesso tempo dobbiamo essere consapevoli che quello che c'è in gioco è davvero importante in un momento storico come questo insomma quello che c'è in gioco appunto è di grande peso fatto dal senatore Giorgis io voglio riprendere un po' quanto diceva Sandro Giacometti all'inizio cioè se dovesse essere poi questo l'approdo finale più o meno questa intesa su questi nomi e con questa maggioranza però questo non tiene conto di quello che il voto europeo ha indicato diciamo al di là del fatto numerico da un punto di vista politico il che potrebbe portare dice Sandro Giacometti attenzione a dare ancora più carburante alle forze di destra e populiste vogliamo chiamarle così e sovraniste ma che ci sia che ci siano equilibri diversi a livello europeo rispetto ai diversi livelli nazionali e che queste ultime elezioni abbiano segnato un avanzamento delle destre in Germania e in Francia è in dubbio però è altrettanto evidente come gli equilibri politici che sono presenti all'interno del Parlamento europeo siano equilibri politici univoci c'è un voto che ha certificato la prevalenza di una maggioranza che vede le tre forze politiche europeiste essere ancora maggioranza qui bisogna ragionare non solo del risultato che si è verificato in Germania e in Francia ma bisogna innanzitutto cercare di capire se all'interno delle istituzioni europee c'è una maggioranza politica consapevole della necessità di procedere in una direzione di ancora maggiore integrazione io sono colpito quando sento diversi esponenti delle forze politiche che sostengono il governo Meloni richiamare l'attenzione sulle sfide che ci attendono sulla necessità che l'Europa sia consapevole del contesto internazionale sia consapevole di dover svolgere un ruolo politico molto più rilevante e poi dopo aver fatto questa considerazione si accompagnano e sostengono posizioni regressive dire nazionaliste dire anti-europee è poco allora qui la vera questione su cui bisognerebbe concentrare l'attenzione è se c'è una consapevolezza anche nella destra che in Italia governa in ordine alla necessità di fare un salto in avanti per esempio una maggiore integrazione nel campo delle politiche fiscali noi abbiamo bisogno di un'Europa nella quale non ci siano più paradisi fiscali un'Europa nella quale si determina posso farle una domanda ma lei la destra di Fratelli d'Italia della Meloni la equipara alla destra di Marine Le Pen stando a quelle che sono le loro dichiarazioni no però poi se guardiamo in realtà al retroterra culturale la risposta è sì se io ascolto il collega Paroli usare parole moderate equilibrate preoccupate di un'Europa che non sappia procedere verso un'integrazione che oggi non è più rinviabile per l'Italia e anche per gli altri paesi e poi penso a cosa capiterà questo pomeriggio in Senato dove forze che si dichiarano moderate sostengono una riforma che è la più illiberale e contraria al fondamentale principio di ogni stato di diritto che è la separazione dei poteri allora io dico che nella destra e nel centro-destra la confusione regna sovrana mi dici un'altra cosa ma penso a un tema molto specifico il Green Deal allora questa maggioranza senza così sarà è la stessa maggioranza che diciamo ha portato a termine questi cinque anni segnati fortemente pandemia le guerre ma dal Green Deal però anche lì bisogna invertire rotta? bisogna ripensare il Green Deal per come è stato pensato finora o no? bisogna investire perché la trasformazione ecologica e il Green Deal non producano marginalità disuguaglianze e per quanto riguarda il nostro sistema economico è stato ideologico fino adesso il Green Deal europeo o no dal suo punto di vista? no è stato consapevole delle sfide ambientali che bisogna affrontare bisogna però che queste sfide ambientali si accompagnino a come dire una gestione degli effetti sociali e degli effetti economici noi abbiamo bisogno di una grande trasformazione del nostro sistema produttivo deve essere una trasformazione che ovviamente non mortifica le condizioni di crescita e di sviluppo e soprattutto non va a svantaggio di quelle fasce più deboli della popolazione ma nell'eventuale riedizione di questa maggioranza c'è questa consapevolezza in cui lei fa il riferimento o no? io penso di sì e le forze socialiste le forze del socialismo europeo lo hanno posto con molta chiarezza durante tutta la campagna elettorale il partito democratico con Elislein e il partito socialdemocratico tedesco hanno dimostrato di avere piena consapevolezza della necessità di tenere insieme transizione ecologica e sostegno a quelle fasce più deboli della popolazione e a quei settori produttivi che vanno riconvertiti e vanno sostenuti nella riconversione torno da Sandro Giacometti tu non sei di questo avviso non sono di questo avviso su tutta una serie di questioni però andando nel concreto mi sembra ad esempio che Forza Italia e il partito democratico su molte questioni importanti che hanno riguardato l'Italia e penso ad esempio alla direttiva casegrin hanno votato in disaccordo cioè il partito democratico è favorevole alla direttiva sulle casegrin Forza Italia viva Dio no allora bisogna fare i conti con queste diversità anche in Europa cioè bisogna rendersi conto che il partito popolare europeo è anche spaccato al suo interno perché su tutte queste questioni che hanno riguardato il Green Deal il partito popolare europeo si è spaccato e spesso Forza Italia ha votato in disaccordo anche con lo stesso partito popolare europeo così come tante volte il PD ha votato in disaccordo con i socialisti europei che si sono a volte anche loro invece spostati perciò è complicato riprodurre le dinamiche italiane a livello europeo è molto complicato però è chiaro che il Green Deal è un tema centrale insieme alla geopolitica e alla difesa su cui anche lì ci sono profonde spaccature all'interno del partito socialista europeo perché diciamo che il PD non è proprio questo esempio di atlantismo di rispetto all'Ucraina rispetto al Medio Oriente insomma ci sono posizioni molto differenti io capisco perfettamente il ruolo di Forza Italia che è un partito importante del partito della famiglia del partito popolare europeo però io credo che a questo punto si debba anche ipotizzare non è che c'è una maggioranza monolitica stabilita ormai da decenni e per decenni nel futuro che debba rimanere sempre quella ci sono tante famiglie in Europa e credo che si possano anche rimescolare un po' queste famiglie europee e fare i conti con il voto degli elettori ribadisco che hanno dichiarato questa esigenza di rimescolare le alleanze europee allora il Green Deal è stato un fallimento dell'Europa le risposte che l'Europa ha dato sulla difesa comune sulla competitività delle nostre imprese rispetto agli attacchi che arrivano dalla concorrenza spesso sleale asiatica sono state fallimentari allora quest'Europa che da parte di chi diciamo è sostenitore del riproporre una maggioranza un uso abis ha fatto tanto bene in realtà ha fatto pochissimo cioè ha fatto soltanto il Next Generation EU per la pandemia e poi sul resto è stato un fallimento totale riconosciuto anche da chi l'ha sostenuta perché nell'ultima parte nell'ultima fase della legislatura molti partiti hanno iniziato a frenare quella direzione che aveva l'Europa nella fase iniziale sotto la guida di Ursula von der Leyen quindi bisogna capire come la stessa maggioranza possa risolvere problemi che finora non è riuscito a risolvere e possa evitare danni che ha fatto con un ambientalismo che piaccia o no è stato ideologico e viene adesso riconosciuto anche da quelli che l'hanno sostenuto a partire dalla von der Leyen che ha proposto una correzione di rotta quindi direi che insomma ci sono dei corti circuiti che vanno risolti senza ipocrisia e con grande diciamo pragmatismo secondo me adesso veniamo alle cose italiane voglio chiedere però sempre sulla scena di questo ragionamento Giulia Mello un'altra cosa cioè ammesso che questa sia la configurazione diciamo di questi prossimi cinque anni europei però non si può far finta di nulla cioè anche questa identica maggioranza non può ignorare tutto questo o no cioè come dire sì abbiamo fatto le elezioni europee la destra è un po' cresciuta in Germania e Francia è successo quello che sappiamo in Italia il governo di destra centro o di centro-destra è il governo che è uscito meglio dal voto ma insomma tanto di cui tutte queste cose ne possiamo tenere conto relativamente sì ecco io non credo che sia esattamente questa l'interpretazione nel senso che le maggioranze in Europa si compongono come in tutti gli altri parlamenti e luoghi di decisione attraverso i numeri ed evidentemente questa è una maggioranza quella di cui si è discusso ieri e quindi quella composta da liberali socialisti e popolari è una maggioranza che sulla carta i numeri ce li ha ed è esattamente uno dei grandi argomenti che molto spesso anche la stessa maggioranza di centro-destra in Italia utilizza ne parlava prima il senatore Giorgi rispetto alle riforme ecco questo è un governo che si è sempre atteggiato dicendo noi i numeri ce li abbiamo e dunque governiamo sulla base dei numeri che ci sono ecco specularmente la maggioranza in Europa che in questo momento sembra ancora intenzionata a sostenere Fonderland e non è ancora certo che così sarà i numeri ce li ha poi è chiaro che c'è sempre la possibilità di andare a cercare ulteriori numeri di tranquillità oppure accordi di programma su singole questioni è chiaro che un singolo accordo di programma che sembra la direzione che anche Meloni forse preferirebbe perché le permetterebbe di non sganciarsi completamente dall'area conservatrice ma comunque di avere qualche fiscia in più da spendere su alcuni singoli temi è una logica molto pericolosa perché andare a cercare accordi di programma su singole materie rischia poi di creare una grande parcellizzazione rispetto alla visione complessiva di quello che sarà il futuro europeo io non credo che questa sarà una partita facile e non credo che ciò che è successo ieri l'abbia esaurita anzi ci ha dato esattamente la dimensione che diceva prima il collega e cioè di un PPE che in questo momento ha varie anime al suo interno che non hanno ancora trovato un accordo diciamo complessivo da un lato c'è Tusk che ha detto esplicitamente ieri proprio con una dichiarazione in chiaro non abbiamo bisogno dei voti di Meloni dall'altra c'era il nostro vice premier Tajani il quale invece diceva non chiuderei la porta ai conservatori perché forse sono dei voti che ci servono anche alla luce dei franchi tiratori io credo che questa sia una grande questione che prima di tutto i popolari dovranno risolvere visto che è l'area di Fonderlain aggiungo sì allora voleva aggiungere qualcosa senatore Paroli velocemente sì sì se posso non dobbiamo come si diceva prima non dobbiamo dimenticare la complessità di un ragionamento europeo non stiamo facendo la maggioranza in un comune dove bastano sei voti su undici c'è una complessità che porta a dover governare un continente una nuova istituzione che ha a che fare con una maggioranza antiendo il Parlamento europeo sì ed è importante è essenziale avere quella maggioranza ma si ha a che fare con un'istituzione che deve rappresentare tutti che deve essere capace di comprendere le esigenze di tutti gli stati di tutti i paesi non stiamo gestendo i marciapiedi di un quartiere no lei mi scusi mi scusi lei ha ragione ma noi dimentichiamo sempre che in Europa almeno per come è attualmente i rapporti di forza sono i rapporti tra gli stati e quindi tra i capi di stati e di governo no quello che voglio dire è che non basta avere una maggioranza abbiamo la maggioranza possiamo fare non basta non è quello allora saggiamente non perché Tajani sia del mio partito ma credo che si sia dimostrato da mesi insomma in tutte queste vicende insomma una persona dalla posizione più saggia e concreta noi dobbiamo tenere insieme tutto ma non tenere insieme tutto così ma perché dobbiamo andare insieme l'appoggio all'Ucraina il fatto che la Russia non si capisca ancora dove voglia arrivare insomma sono temi che ci devono interrogare e che devono vedere socialisti popolari conservatori anche le forze di estrema destra del paese guardare a uno stesso obiettivo sapendo che sì c'è una convenza di escludendum che non prevede la possibilità di inserire quelle forze che non credono all'Europa perché è evidente che tu non puoi governare l'Europa con chi non creda all'Europa ma è evidente che questo non vale certo per la Presidente Meloni e non vale per i conservatori diciamo che oggi abbiamo raggiunto un obiettivo all'interno ahia qua questo collegamento è un po' un po' precario ritiene giustamente che l'Europa vada salvaguardata e riformata e questo credo insomma anche dalle battute che si facevano sull'ultimo anno di governo europeo ci sono temi Green Deal che poi è giusto che vedano posizioni diverse cioè non è che la maggioranza che si costituirà tra una settimana è la maggioranza che ha già deciso tutto e farà tutto ci si troverà di fronte alle venienze di ogni giorno con saggezza e serietà ad affrontarle per il bene dei popoli europei innanzitutto e chiaramente dei governi europei che devono condividere allora io adesso devo andare in pubblicità così affrontiamo le questioni eh le questioni domestiche o più squisitamente italiane però mi piacerebbe dare un'immagine cioè se un marziano arrivasse stamattina in Italia e guardasse rispetto a quello che è successo ieri nella scena informale dei leader e insomma fanno la voce grossa Tusk legittimamente Macron Scholz e Meloni che è diciamo la leader che è uscita maggiormente rafforzata da queste elezioni resta sullo sfondo cioè è curioso nell'equilibrio tra diciamo rapporti di forza tra paesi peraltro Italia Francia e Germania sono tre dei paesi fondatori dell'Unione Europea cioè è una cosa che noto perché è curiosa poi starà alle intese starà a Giorgia Meloni decidere cosa fare però insomma questo rende plasticamente anche un po' l'idea di quello che sta succedendo in questo momento in Europa e mi pare lo diceva il senatore Giorgi se di quanto siano complesse queste trattative se posso una battuta questa complessità reale però dimostra ancora una volta quanto sia urgente mettere mano anche all'architettura istituzionale europea perché se non si procede nella direzione di una maggiore integrazione superando ad esempio il principio dell'unanimità rafforzando i poteri del Parlamento consentendo anche ai parlamentari europei di disporre dell'iniziativa legislativa cioè se non affrontiamo se l'Europa non saprà affrontare questo grande tema il rischio è che la complessità alla fine indebolisca l'Europa sono tutti aspetti cruciali ma aspetti cruciali come tutti sappiamo diversi partiti di destra per esempio non sono favorevoli per esempio quando si parla del voto all'unanimità ci sono forze in Italia fratelli d'Italia c'è la Lega solo per continuare con questo meccanismo e non cambiarlo per esempio però se si vuole un'Europa capace di proteggere i cittadini europei capace di garantire crescita sviluppo uguaglianza esercizio effettivo dei diritti bisogna passare da una maggiore confusione perché andiamo nel cuore però non si capisce perché questa nuova Europa migliore di quella prima la debba fare la stessa maggioranza di quella prima la devono fare tutti quelli che hanno consapevolezza della necessità di un base di perché c'è la forza dei numeri perché poi alla fine contano i numeri no? Vabbè allora dopo la pubblicità una bella carrellata di battute di interventi su premierato e autonomia differenziata oggi è una giornata molto importante tra poco dice il segretario della Lega possa dire che è peggio cantare bella ciao che fare il simbolo della decima mass è una roba che non sta in cielo né in terra dovresti uscire da quest'aula si trattasi di legge di attuazione di un disegno di legge che era stato reclamato per primo e aveva per primo posto all'attenzione della commissione del senato e poi anche alla camera un ministro di nome boccia voi aprite il dossier delle audizioni a caso a caso e qualunque soggetto pone una criticità come verranno finanziati di lab dove troveranno le risorse l'ha fatta l'ha fatta il qui presente ministro calderoli nemmeno un laureato imporcato ai parlamentari poteva rendersi protagonista di questo stempio collega una farsa perché non ci avete messo un euro dimostrando la mancanza di volontà di garantire davvero i diritti da nord a sud in tutte le aree del paese faccio notare che l'atmosfera non è tale da poter continuare per decisione dell'opposizione che ha deciso di fare degli interventi occupare i banchi del governo occupare il banco del presidente del senato come senatrici di questo senato della repubblica noi abbiamo occupato i banchi del governo non per un qualche motivo futile ma perché abbiamo detto che i lavori in quest'aula non possono riprendere fino a quando non sono state pronunciate parole di ferma condanna da parte della maggioranza per le scene di inaudita violenza c'è la possibilità concreta come pensiamo noi che il futuro presidente del consiglio eletto con il premierato venga eletto con la minoranza dei voti di questo paese potrà succedere è un'ipotesi in campo centrodestra come è stato detto e lo si ripeterà era partito da un programma più ambizioso di presidenzialismo e ha ritenuto il premierato con tutta la salvaguardia dei poteri e delle funzioni del presidente della repubblica già una forma di adeguamento a un pensiero più condivisibile nel parlamento sul premierato avremo gli strumenti che i padri costituenti ci hanno dato a partire dal referendum sull'autonomia faremo di tutto per fermarvi a Montecitorio e martedì in piazza e se non lo farete raccoglieremo le firme perché anche lì deciderà il popolo italiano eh allora le due grandi battaglie due riforme simbolo della maggioranza premierato e autonomia differenziata che stanno lacerando non soltanto le forze politiche in parlamento ma un po' creando una grande contrapposizione anche nel paese che poi insomma rispecchia la divisione diciamo i rapporti di forza politici in Italia io vorrei per ripartire dal senatore Giorgis che peraltro insegna anche diritto costituzionale quindi diciamo è un esperto della materia ma possibile che non ci sia nulla nel premierato e nell'autonomia differenziata che va bene cioè le avete bocciate senza mezzi termini guardi il premierato è una riforma che non ha uguali in nessun paese democratico del mondo e non ha neanche nessun precedente storico perché per la prima volta si ipotizza di eleggere il Parlamento non direttamente ma per trascinamento cosa vuol dire? vuol dire che la composizione del Parlamento dipenderà non solo dal voto che i cittadini daranno alle liste ai candidati al Parlamento ma la composizione del Parlamento dipenderà dal voto che i cittadini daranno al Presidente del Consiglio perché il Presidente del Consiglio eletto trascinerà determinerà la composizione del Parlamento non solo il Presidente del Consiglio sarà anche dominus della durata del Parlamento noi rischiamo di dare vita a un assetto istituzionale che non ha precedenti e soprattutto che compromette quelle che il principio come dire cardine dello Stato di diritto e che è se vogliamo anche il principio fondante tutta la storia del costituzionalismo che è la separazione dei poteri l'equilibrio tra i poteri ora quando io sento dire come nel servizio avete citato l'intervento del Senatore Gaspari ma è stato detto anche da altri che questa sarebbe una riforma che in qualche misura viene incontro è un tentativo di mediazione io dico che bisogna avere maggiore onestà intellettuale nell'usare certe parole perché questa è una riforma che a differenza di un assetto presidenziale a differenza di un assetto semipresidenziale come cercavo di dire prima determina una tale concentrazione del potere una tale mortificazione del Parlamento un tale superamento di quella che è la più grande conquista di libertà individuale e collettiva del nostro paese che è la democrazia pluralista e partecipativa posso farle una battuta perché è vero che c'è stata un'interlocuzione a meno iniziale con le opposizioni e dal progetto iniziale del presidenzialismo si è passato a questo che è molto peggio la battuta che voglio fare avrebbe preferito il presidenzialismo noi saremmo stati ugualmente contrari al presidenzialismo perché al nostro paese alle caratteristiche sociali culturali ed economiche del nostro paese un assetto verticalizzante un assetto che comunque concentra in una figura e il presidente in questo caso non corrisponderebbe a quelle che sono le esigenze di unità di composizione di sintesi del nostro paese però sarebbe stata una riforma che avrebbe avuto il crisma della dignità almeno giuridico costituzionale questa invece è una riforma che va oltre qualsiasi presidenzialismo allora voglio chiedere una cosa a Paroli non tanto sul premierato perché come lei sa insomma oggi anche su molti giornali si legge Forza Italia è insomma qualche dubbio è venuto a Forza Italia sull'autonomia differenziata potrebbe esserci la formula di presentare più ordini del giorno per diciamo depotenziare rallentare la legge Calderoli ma è vero c'è qualche dubbio su quest'altra riforma anche questa è una riforma mi pare ribattezzata spacca Italia beh ribattezzata spacca Italia da chi da chi non la vuole sì dai detrattori certo è chiaro ma noi siamo noi siamo convinti che che serva un'autonomia differenziata può essere e sarà un passo avanti notevole nella responsabilità degli amministratori regionali nella responsabilità di chi deve dare risposte al territorio certo siamo preoccupati ma come tutti non solo Forza Italia la maggioranza come l'opposizione del fatto che l'applicazione poi dell'autonomia differenziata non lasci indietro nessuno non dimentichi nessun pezzo del territorio e gli ordini del giorno e le nostre preoccupazioni sono queste ma non sono dubbi sono preoccupazioni che devono trovare poi riscontro in un lavoro come abbiamo sempre fatto come abbiamo fatto fino adesso e come faremo vede il problema di queste riforme perché vale per il premierato che prima era presidenzialismo vale per l'autonomia differenziata vale per la riforma della giustizia e che sono impegni che noi abbiamo preso con gli elettori a settembre del 22 con un programma elettorale e oggi siamo ancora più convinti che questi temi vadano affrontati a me spiace la scelta fatta dalla sinistra dal PD in particolare perché con i 5 Stelle è davvero complicato ragionare ma col PD il senatore Giorges che io conosco e stimo per capacità e per la preparazione ma il PD non ha mai voluto sedersi veramente al tavolo è una scelta legittima dire no non ci interessa noi siamo per il no contrasteremo queste riforme queste riforme tutte le contrasteremo in piazza la scelta della piazza infatti non è una scelta di oggi ma è una scelta di 9 mesi fa io ripeto assolutamente rispettabile ma la strategia del PD è stata quella di opporsi a prescindere noi invece crediamo che servano queste riforme quella della giustizia non parliamo ne credo che tutti i giorni vediamo quanto serva dare una maggior equità e insomma indipendenza alla magistratura che purtroppo non vediamo non vediamo troppo spesso in troppi casi insomma dal punto di vista dell'autonomia differenziata io credo che maggiore autonomia e responsabilità ai territori possa solo far bene cioè l'esempio delle regioni allora aspetti aspetti senatore Paroli perché devo è tardissimo questa è colpa mia poi voglio sentire sia Sandro Acometti che Giulia Merlo su questo devo andare però da Paolo Sottocorona Paolo buongiorno buongiorno arriva il grande caldo dai ma ci saranno dei picchi questo sì non è che nessuno lo nega solo che se parliamo solo dei picchi parliamo solo della cima del Monte Bianco ma non è tutto non è che tutte le Alpi sono 4810 metri forse 9 dice che si era abbassato di un metro addirittura allora chiacchiere a parte il tempo è stabile che significa molto sole significa alta pressione come si diceva ieri questo produce calore più più insieme alla presenza del sole quindi per quello che riguarda il tempo in sé la giornata di oggi vede solo qualche eventuale debole precipitazione sulle sulle Alpi Piemonte Valle d'Aosta anche alta Lombardia ma sono debolissime precipitazioni nel pomeriggio sulle altre zone prevale il sole questo schema ce lo portiamo avanti tranquillamente anche nella giornata di domani vedete sempre questi deboli fenomeni sulle zone alpine poi per la giornata di giovedì sempre situazione simile forse compare qualche debole pioggia anche sulla parte orientale in Liguria ma insomma parliamo veramente di cose minime se no tempo comunque stabile appunto caldo ma insomma a occhi e croce entro la fine della settimana questo grande caldo insomma dovrebbe dovrebbe passare ce ne liberiamo grazie vado di gran carriera in pubblicità tra poco riprendiamo questi temi e parliamo di casa allora salutiamo intanto ci ha appena raggiunti Paolo Righi grande esperto diciamo del mercato delle case past president di Fiaip che è la maggiore associazione degli agenti immobiliari professionali ed è anche presidente di Confassociazione Giubile All'Estate adesso parliamo del salvacasa volevo però ancora una diciamo rapida riflessione sia da Sandro Giacometti che Giulia Mella a proposito di questa sofferta partita sulle riforme Sandro vabbè le riforme sarebbe sempre auspicabile che avessero il più ampio consenso possibile purtroppo in Italia è avvenuto raramente e devo dire che diciamo l'ultima riforma di cui stiamo parlando che è quella dell'autonomia differenziata è contenuta in una riforma costituzionale dell'articolo 5 della Costituzione dell'articolo 5 della Costituzione che è stata fatta a colpi di maggioranza dal centro-sinistra nel 2000 che fra l'altro conteneva l'autonomia differenziata e che fra l'altro il centro-sinistra in Lombardia in Veneto e in Emilia Romagna sosteneva fosse una buona cosa quindi per carità io capisco che possono esserci delle obiezioni nel merito delle diverse sensibilità nel merito delle idee differenti nel merito però ho la sensazione che non abbia torto il senatore di Forza Italia quando dice che c'è stata un'opposizione abbastanza pregiudiziale nei confronti delle riforme perché sia sull'autonomia differenziata sia sul premierato su cui fra l'altro sin dall'inizio il presidente del Consiglio Giorgia Meloni si era dimostrata ampiamente disponibile si è presentata al tavolo dicendo io non ho un'idea precisa di riforma voglio che ci sia un'elezione diretta di qualcuno che si assuma la responsabilità di governare il paese poi decidete voi il modo la formula le strade io credo che ci sia stata questa disponibilità la disponibilità non è stata raccolta è stato preferito utilizzare diciamo un'opposizione dura e pura su tutti gli aspetti della riforma a prescindere dai contenuti e adesso è diventata la grande battaglia adesso c'è una grande battaglia per quanto riguarda la giustizia ho paura che l'opposizione non sarà tanto quella politica quanto quella dei magistrati peraltro oggi il Partito Democratico il Movimento 5 Stelle la danza verde e sinistra in concomitanza con la manifestazione manifesteranno anche a Bruxelles appena arrivata la notizia un secondo deve essere proprio un flash professore il lavore professore perché dobbiamo parlare di casa i lavori parlamentari testimoniano quanto abbiamo cercato di avanzare proposte costruttive serie nell'interesse del paese basta andare a leggere i lavori parlamentari sette mesi di proposte sette mesi di interventi a cui la maggioranza e il governo hanno risposto o con il silenzio o peggio rivendicando il diritto di modificare la Costituzione da soli perché avevano vinto le elezioni si andrà a colpi di maggioranza e saranno portate a casa queste due lasciamo stare la giustizia adesso queste due riforme o questi dubbi che affiorano in Forza Italia il senatore Paroli è stato bravissimo a non evidenziarli ma se ne parla se ne parla dubbi ci sono mi sembra che soprattutto per ciò che riguarda l'autonomia che è una legge ordinaria e quindi non necessita di un'ulteriore tornata parlamentare la via sembra aperta appunto con qualche obiezione che potrebbe rifar partire il gioco sul presidenzialismo ovviamente ci sono più passaggi parlamentari che diluiranno ulteriormente io penso che però il grosso tema volendo stare alle cose concrete sia legato da un lato sull'autonomia all'approvazione dei livelli essenziali delle prestazioni cioè in sintesi non esiste ancora una quantificazione di spesa per questa riforma ed è una parte che verrà delegata a un futuro prossimo venturo che ancora non è chiaro quando arriverà per ciò che riguarda il presidenzialismo veniva giustamente detto l'obiettivo della riforma è quello di rendere chiaro chi vince le elezioni governa per fare una cosa del genere di solito lo strumento corretto è quello della modifica della legge elettorale questa è una riforma costituzionale che prevederà di dover riscrivere la legge elettorale anche di questo non c'è traccia quindi di fatto sono due riforme che anche nel caso in cui venissero approvate mancano dei due tasselli fondamentali per farle funzionare l'EP da una parte è riforma della legge elettorale allora caro Paolo Righi insomma questo salva casa di cui si è molto parlato adesso è stato pubblicato sulla gazzetta officiale il decreto poi c'è l'iter parlamentare e non si escludono diciamo ulteriori modifiche anche perché più di qualcuno dice non c'è ancora chiarezza su quelle che sono le variazioni ammissibili e non ammissibili che potranno essere sanate cioè le difformità le piccole irregolarità come si dice diciamo subito che è un decreto di buonsenso è un decreto di buonsenso perché sana appunto non sana gli abusi ma le piccole difformità cosa sono le piccole difformità sono una finestra spostata più grande più piccola un piccolo soppalco cioè tutte quelle difformità che oggi concorrono a bloccare le compravendite e a creare problemi laddove si debba fare una compravendita ad esempio con un mutuo che cosa accade siccome la stratificazione legislativa nel nostro paese è fantastico ci siamo inventati la doppia conformità quindi se io devo vendere una casa è un problema perché c'è una finestra un pochino più piccola un pochino più grande una volta non c'erano le misure i muratori non agivano con gli strumenti di oggi le misure erano e calcolare l'80% degli immobili ha piccole difformità quindi che cosa accade se ho queste difformità devo andare a fare una sanatoria però appunto ci siamo inventati la doppia conformità cioè per sanare deve corrispondere a soggettarsi all'impianto normativo precedente e anche quello dopo quindi che cosa succede tanti immobili rimangono invenduti o non mutuabili proprio per questa difficoltà che cosa succede in Italia che il notaio non certifica lo stato dei luoghi il notaio fa il suo mestiere giustamente quello che gli ha insegnato dalla legge e guarda che il trasferimento sia corretto ma non va a vedersi una finestra più piccola o più grande quindi se io compro senza ricorrere al mutuo o in altre cose io penso di avere una casa a posto e invece non ce l'ho nel momento in cui ho bisogno invece con la normativa vecchia non riuscirei a fare niente il salvacasa elimina questa doppia confondità il salvacasa elimina questa cosa permettendo con la normativa del silenzio assenso noi abbiamo 4 milioni di pratiche ferme negli uffici tecnici comunali quindi il tecnico va fa la sua indagine fa le sue cose presenta queste varianti diciamo e dopo 45 giorni se nulla accade allora queste piccole difformità sono sanate si sanano come con una multa diciamo un'ammenda che va da 0 a 31 mila euro oppure può anche essere gratuita se non vi è un aumento del valore della casa quindi mettiamo che abbia un terrazzino che è 10 centimetri più grande e che non riesca a sanare lo posso fare senza ad esempio gratuitamente lo scopo è anche di far affluire nelle casse dello Stato i denari che tanto servono dei comuni anche peraltro e il 30% di quello ad oggi poi vedremo le modifiche ma il 30% di quello che è destinato al pagamento delle multe sarà usato per la transizione ecologica questo decreto c'è un'altra cosa fondamentale qual è che è quello del cambio di destinazione d'uso oggi nelle grandi città ma anche nelle piccole abbiamo uffici sterminati che sono vuoti perché le grandi aziende vanno fuori dai centri storici fanno appunto queste mega costruzioni gli uffici del centro storico che non hanno carico urbanistico che non hanno niente sono vuoti e non pensiamo a Milano dove c'è un'euforia immobiliare fantastica ma pensiamo a tutto il territorio nazionale quindi abbiamo tanti uffici vuoti i cui proprietari continuano a pagare tasse su tasse e diciamo sempre che non ci sono immobili in Italia allora invece di consumare il suolo si riconverta quello che oggi l'economia non vuole più ad uso abitativo da ufficio ad uso abitativo perché gli uffici hanno già tutte le caratteristiche che deve avere un'unità immobiliare abitativa Senatore Giorgis e qui anche su questo provvedimento si è fatta una feroce contrapposizione per lei che cos'è questo salvacasa è un condono mascherato mi sembra abbastanza evidente poi bisognerà entrare nel merito come ti ride perché adesso sembra sembra che il cambio di destinazione d'uso in Italia non sia possibile da quello che abbiamo appena ascoltato sembra che ad oggi prima del decreto il cambio di destinazione d'uso sia impossibile e che la grande novità di questo decreto sarebbe rendere possibile il cambio di destinazione d'uso voglio dare una notizia è già possibile il cambio di destinazione d'uso se vengono rispettate determinate caratteristiche se naturalmente quell'unità immobiliare presenta diciamo caratteristiche conformi a quelle che devono avere tutte le abitazioni è un fatto di tempi mi chiedo oggi fare un cambio d'uso è una questione molto lunga ma se il tema è la semplificazione allora si intervenga sulla pubblica amministrazione che è un altro grande tema che questo governo fa finta di affrontare ma poi mette nel cassetto perché il tema della riforma della pubblica amministrazione e della riforma delle procedure amministrative e degli investimenti sulla formazione e sul personale è una cosa seria invece introdurre delle disposizioni che di fatto sanano qualsiasi tipo di irregolarità per fare cassa io credo che arrechi rischi di arrecare un danno proprio al patrimonio io lo boccio poi lo discuteremo vedremo gli emendamenti però se l'intenzione vedremo gli emendamenti allora guardi vedremo l'atteggiamento che avrà il governo sui nostri emendamenti perché se l'intenzione è solo quella di semplificare le procedure preservando però le caratteristiche necessarie perché non ci siano delle speculazioni o perché non si incentiva e non si premi come tante volte questo governo ha cercato di fare e cioè le violazioni di legge gli abusi le come dire le classiche situazioni che compromettono il mercato perché poi queste come l'evasione fiscale anche gli abusi edilizi che cosa sono? sono un danno alla concorrenza sono un come dire un insulto ai cittadini onesti e alla fine producono un danno complessivo se gli emendamenti l'abuso non è condonabile in questa cosa non è un condono in nessun modo perché ripeto si velocizza il mercato immobiliare e si permette a tanti cittadini di sanare con una regola molto democratica per oggi la tolleranza per sanare era del 2% era del 2% per quelli che avevano appartamenti in 50 metri e del 2% per quelli che avevano in 500 metri oggi correttamente inversamente proporzionalmente inversamente proporzionale abbiamo fatto 5% per chi ha e oggi chiediamo il 6% per chi ha piccoli appartamenti e meno per chi ha grandi appartamenti le condizioni dell'appartamento però non confondiamo perché è una buona cosa non confondiamo i nomi le parole sono importanti dicevano e quindi non è un condono in nessun modo l'abbiamo appoggiato tutte le associazioni del real estate conferenza stato regione e così via adesso che è finito l'elezione possiamo dire è una cosa di buon senso che aiuta i cittadini allora ci saranno le audizioni faremo gli approfondimenti faremo gli approfondimenti discuteremo il presidente Baccarini stamattina proprio in audizione proprio per perché ovviamente tutto il settore sarà audito prima di andare a David Parenzo senatore Paroli proprio una battuta un telegramma sulla questione salva casa guardi è vero che i cambi di destinazione d'uso sono già possibili oggi è vero anche che devono fare i conti con i regolamenti edilizi di quel comune che spesso sono un ginepraio dentro il quale non ci si riesce ad orientare non si arriva a conclusione così come anche in sanatoria laddove è stato fatto diciamo un'opera che si poteva fare ma per la quale non è stato chiesto il permesso di costruire è evidente che ancora oggi era già possibile una sanatoria quindi il permesso di costruire una sanatoria ma anche lì i tempi e i modi erano così complicati che alla fine o facevano saltare una vendita o comunque lasciavano inutilizzati troppi immobili credo che come ha detto bene il presidente Fia c'è la possibilità di avere uno strumento che può dare un servizio una risposta ai bisogni dei nostri cittadini affrontiamolo insieme ma credo che assolutamente comunque lo scopo sia condivisibile e non può che essere così vediamo allora quali saranno se ci saranno le variazioni correttive diciamo durante l'Ital parlamentare caro David buongiorno caro Andrea buongiorno a te no dicevo oltre al salva casa qui ci vuole anche il salva Ursula però il salva Ursula eh chissà il salva Ursula von der Leyen allora lì ci collegheremo in diretta con Elena Testi che si trova a Bruxelles e vi daremo tutti gli aggiornamenti del caso Ursula von der Leyen Tentalbis la sfida di Meloni pare che nei corridoi di Bruxelles eccola qui la Testi si aggiri anche già il generale Vannacci e quindi proveremo a intercettarla a fianco alla Testi c'è anche un toro come vedete grande metafora dello scontro che in questo momento si sta vivendo a Bruxelles e poi invece le altre cose quelle più drammatiche nuova tragedia del Mediterraneo dieci morti a Lampedusa e i dispersi nella zona di Reggio Calabria in Calabria c'è per noi Isabella Ciotti che si trova lì ci dirà tutti gli aggiornamenti del caso pensate che dall'inizio dell'anno ci sono stati più di mille morti nella tragedia nella tragedia del mare ne parleremo con Laura Teccia Augusto Minzolini Claudio Fusano Claudio Fusani Marco Furfaro del Partito Democratico torna a trovarci Elsa Fornero e poi gli echi dell'inchiesta di Fanpage quella sulla sezione di Fratelli d'Italia con alcuni esponenti del partito che hanno fatto il famoso saluto romano e non solo bene questa inchiesta è arrivata fino a Bruxelles sentiremo anche lì le reazioni torna a trovarci il direttore di Fanpage cancellato e c'è un nuovo caso che proprio in questo momento è diventato l'apertura di molti di molti siti di informazione Giuseppe Marasco candidato di Fratelli d'Italia a Manfredonia in un momento di dibattito pubblico ha detto noi siamo abituati ai forni crematori battuta totalmente infelice ma che ovviamente ora sta facendo il giro del web ci vediamo tra poco grazie allora non mi resta che ringraziare e salutare i nostri ospiti di oggi con questa parentesi sulla casa che come vedete è sempre un tema diciamo che crea molta vivacità e molto dibattito ci vediamo domani stesso luogo stessa ora c'è l'aria che tira grazie grazie a tutti Grazie a tutti.